Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate quello che vi sto per predicare. Gesù Cristo, il figlio di Dio, dopo essere risuscitato dai morti, apparve a undici suoi discepoli. E quando gli apparve, gli disse diverse cose. Tra queste cose ci sono queste. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Dunque, Gesù Cristo ha detto che chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato. Quindi è bene che voi sappiate, voi che siete senza Dio, senza Cristo nel mondo, che se rifiuterete di credere nell'Evangelo che io vi annunzio, che è l'Evangelo di Cristo, voi sarete condannati. Ora, innanzitutto, cos'è l'Evangelo? L'Evangelo è la buona novella che Gesù è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo, cioè la buona novella. Questa parola è potenza di Dio per la salvezza d'ogni che credente, cioè d'ognuno che crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in essa, cioè in questa parola, che è la parola della buona novella, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Dunque, chi crede nell'Evangelo viene salvato, viene salvato dai suoi peccati. Perché? Perché l'uomo senza Dio è un peccatore, schiavo del peccato. Il peccato lo signoreggia. E, essendo che è schiavo del peccato, è nemico di Dio. L'uomo schiavo del peccato è nemico di Dio. L'ira di Dio è sopra colui che è schiavo del peccato. E dunque, chi è schiavo del peccato è sulla via della perdizione, cioè sulla via che meni in perdizione, ossia all'inferno. L'inferno è un luogo di tormento nell'aldilà, dove c'è appunto il fuoco che arte. E là vanno le anime di coloro che muoiono nei loro peccati. Dunque, voi, in questo momento, voi che siete senza Dio, che mi state ascoltando, voi, essendo dei peccatori, siete sulla via che mena l'inferno. Cioè, voi meritate di andare all'inferno. Per quale ragione? Perché siete dei peccatori. Perché siete schiavi del peccato. Il peccato è la violazione della legge. Voi avete violato la legge di Dio, quindi, diciamo, la pena che vi aspetta, la punizione che vi aspetta immediatamente dopo la morte è l'inferno, il tormento all'inferno. Perché all'inferno c'è il tormento, perché c'è un fuoco in mezzo al quale appunto le anime sono tormentate. Quindi voi dovete sapere questo. Voi meritate di andare all'inferno. Meritate proprio, lo meritate appieno. Ora, chi crede nell'Evangelo viene salvato, salvato dal peccato. Quindi viene affrancato dal peccato. Perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio. L'uomo quindi, nel momento in cui crede nell'Evangelo, non solo viene salvato dai suoi peccati, ma viene anche giustificato, reso giusto. Perché il Dio gli mette la sua fede in conto di giustizia. In sostanza, Dio imputa all'uomo che crede la giustizia di Dio. Senza opere, quindi. Quindi, sia la salvezza che la giustificazione sono per fede. Per cui, per grazia. Non è in virtù d'opere che si viene salvati e giustificati, ma per grazia, mediante la fede. Dunque, chi crede nell'Evangelo viene sia salvato che giustificato. Non solo, ottiene anche la vita eterna. Perché la vita eterna è il dono di Dio. Chi crede, infatti, Gesù disse, ha vita eterna. Allora, è evidente che se chi crede nell'Evangelo viene salvato, viene giustificato e ottiene la vita eterna, chi rifiuta di credere nell'Evangelo rimane schiavo del peccato, rimane un peccatore agli occhi di Dio, con l'ira di Dio sopra di lui, e rimane sulla via della perdizione. Cioè, sulla via che va all'inferno, che mena all'inferno. Perché rimane senza vita. Perché la vita eterna è nel figliolo di Dio. Chi ha il figliolo di Dio ha la vita. Chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Dunque, voi che mi ascoltate, dovete sapere questo. Io vi ho annunziato la buona novella. L'Evangelo. Ma dovete sapere anche che se da un lato chi crede nell'Evangelo viene salvato, giustificato e ottiene la vita eterna, dall'altro chi rifiuta di credere nell'Evangelo sarà condannato. È una condanna certa. Non c'è alcun dubbio sulla condanna che sarà inflitta all'incredulo. Gesù l'ha detto. Chi non avrà creduto sarà condannato. Guardate bene. Non siate seduti da coloro... O comunque non ascoltate coloro che vi dicono che alla fine Dio salverà tutti. A prescindere quello che l'uomo creda. No, non è così. Perché coloro che non avranno creduto nell'Evangelo saranno condannati. Questo l'ha stabilito il Dio. Perché le parole di Gesù sono parole di Dio. Gesù Cristo è il figlio di Dio che riferì le parole che udì da Dio Padre. Quindi queste parole sono parole di Dio. Per cui voi le dovete avere ben impresse davanti a voi. Perché se rifiuterete di credere nell'Evangelo che io vi ho annunziato. Non potrete dire che nessuno mi aveva avvertito. Non potrete dire nemmeno questo. Perché io vi ho avvertito. Voi invece cosa avete fatto? Vi siete presi. L'Evangelo ve lo siete gettati dietro le spalle. Non vi è interessato niente. Beh, allora sappiate che quello che vi aspetta è qualcosa di orribile. perché ve ne andrete all'inferno. Non c'è il paradiso per gli increduli. Non pensate che anche rifiutando di credere nell'Evangelo sarete salvati lo stesso. Per nulla. Sarete condannati. Intanto dopo morti andrete all'inferno. E dove c'è il fuoco, dove sarete tormentati. Poi, badate bene perché non è che finisce non è che ne finisce all'inferno. Perché nel giorno del giudizio poi risorgerete, risusciterete in resurrezione di giudizio. Comparirete davanti al trono di Dio il quale appunto vi giudicherà secondo le vostre opere. Sarete giudicati secondo le vostre opere davanti al tribunale di Dio e poi dopo sarete gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda. E là sarete tormentati, anima e corpo per l'eternità, nei secoli dei secoli. Il vostro tormento non avrà mai fine. Quindi badate bene che l'Evangelo che vi ho annunziato è una parola importante. Importante! Fondamentale! Per la salvezza. Ricordatevi questo che il Dio ha mandato nel mondo il suo figliolo Gesù Cristo per essere il salvatore del mondo. Lui ha procurato la salvezza morendo e risuscitando. Non c'è salvezza all'infuori di Gesù Cristo. È scritto in nessun altro è la salvezza poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo di essere salvati. C'è un solo salvatore uno solo il suo nome è Gesù Cristo. Lui è il salvatore del mondo. Credete in Lui dopo esservi ravveduti credete in Lui e sarete salvati dai vostri peccati. Il Signore perdonerà cancellerà tutti i vostri peccati che avete commesso il Signore vi giustificherà e vi darà la vita eterna. e avrete la certezza che quando morirete andrete in paradiso nel regno dei cieli perché se è vero che esiste l'inferno per coloro che muoiono nei loro peccati è altresì vero che esiste il paradiso per coloro che muoiono in Cristo. Quindi chi poi avrà perseverato sino alla fine nella fede sarà salvato dal Signore in paradiso nel suo regno celeste dove appunto si entra nella gioia del Signore dove c'è la pace dove c'è la gloria dove appunto coloro che sono morti in Cristo si riposano dalle loro fatiche. È un luogo di riposo di riposo riposo cosciente il paradiso. Quindi quindi il mio messaggio è chiaro e franco ravvedetevi e credete nell'Evangelo affinché il Signore abbia misericordia di voi. Sappiate che l'ira di Dio è sopra di voi e lo ripeto siete sulla via della perdizione c'è la condanna per voi se morirete nei vostri peccati. Quindi ravvedetevi e credete nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo. Chi ha orecchi da udire oda. è il Cristo. Chi ha orecchi da udire il Cristo. Chi ha orecchi da udire il Cristo. Chi ha orecchi da udire